Sono tutti morti? Sempre. Cercavano di prendere ciò che potevano. E qualcuno lo ha preso a loro. Padre! State vicini. Padre! Qui! Mi fai vedere? Piano. Come ti chiami? Hai un nome? Ila. Mi chiamo Ila. Ila. La ferita guarirà. Lui e Sam ti terrà la mano e non la lascerà. Doviamo andare. Subito. No. 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 Allora.